E' un ruolo quello della polizia locale che va sempre più accrescendosi di competenze e anche di riconoscimento da parte delle altre forze di polizia per la competenza e per la determinazione che mettiamo nelle nostre azioni. Abbiamo vissuto un anno difficilissimo dove la comunità cittadina ci ha aiutato, è stata a sentire i nostri richiami alla responsabilità perché questa pandemia è un qualcosa di molto difficoltoso da abbattere e da combattere perché molte volte è proprio in famiglia che si determinano i focolai e quindi noi dobbiamo essere certi che non solo su strada ma anche all'interno delle singole famiglie ci siano quegli accorgimenti per fare in modo che la pandemia non prenda ancora più piede e determini altri morti. Quindi questo è un fatto importante che abbiamo fatto in questi mesi, rimettendoci qualche volta anche le penne nel senso che abbiamo avuto qualche unità di personale che a sua volta è stato contagiato dal morbo e poi si è dovuto naturalmente allontanare dal servizio. Noi continueremo a farlo per i prossimi mesi fino a quando ci sarà questa emergenza con maggior determinazione. Abbiamo visto molto bene questo provvedimento che ha fatto in modo che alle 18 i bar non possano più avere degli avventori all'interno né seduti ai tavoli perché anche quello era un fenomeno di contagio molto importante. Quindi andiamo avanti così, speriamo che anche i vaccini fanno la loro parte per quanto riguarda le nostre cose all'interno della polizia locale i riconoscimenti che ci vengono fatti continuamente. Spero che nel più breve tempo possibile possa anche portare ad una riforma di quella legge 65 dell'86 che ormai è obsoleta e che va a sostituire da un provvedimento organico che riconosca ruolo e funzione della polizia locale. Devo dire che i contagi stanno riprendendo piede ma è per l'effetto delle feste natalizie naturalmente. Quindi ho detto che i contagi non sono solo su strada ma sono anche all'interno delle famiglie e quando naturalmente si abbassano le precauzioni all'interno di una famiglia può prendere piede quella che può essere un'infezione. E quindi bisogna continuare a dire in giro che c'è bisogno di precauzioni, c'è bisogno di tenere la mascherina probabilmente in presenza di persone fragili anche all'interno della famiglia. Nella prima fase abbiamo elevato tantissime sanzioni anche a livello penale che poi sono state depenalizzate. Ultimamente un po' in meno perché vediamo che la cittadinanza risponde però nei casi in cui ci sono delle persone che volontariamente disattendono ai diktat che vengono dall'alto naturalmente i verbali li abbiamo fatti. Sono 280 euro pagabili entro 5 giorni quindi è una cifra anche importante che andiamo a togliere dalle tasche di questi cittadini improvvidi per cui il mio richiamo è sempre quello di evitare certe condotte perché non giova assolutamente né per la salute né per la tasca. Il Sanneo è una regione, è un territorio che comunque parte della regione Campania dove purtroppo ancora portiamo dietro una cattiva letteratura e anche cattivi comportamenti in molti casi però mi pare che le forze di poesia stiano facendo uno sforzo imponente in tutte le province campane e con risultati anche eccellenti. Naturalmente non basta solo questo perché il tema vero oltre che la cattura della titante o la scoperta della cosca criminale è proprio quella come diceva il procuratore Pignatone quella zona grigia abituata a disattendere le regole del vivere civile e quindi la necessità di riscroprire lo stare in comunità rispettando le regole. Io penso che su questo dobbiamo fare grandi passi davanti, su questo io mi spenderò. Le misure prese per contenere la pandemia di Covid-19 stanno avendo un effetto collaterale molto positivo con i casi di influenza ai minimi degli ultimi anni e se la tendenza verrà confermata, almeno per quest'anno, si eviteranno i circa 8.000 morti che il virus stagionale fa ogni anno nel nostro paese. A certificare l'andamento piatto di quest'anno c'è il bollettino settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità secondo cui i livelli sono almeno 5 volte più bassi rispetto alla stagione 2019-2020. In Italia, si legge, nella seconda settimana del 2021 l'incidenza delle sindrome simil-influenzali si mantiene stabilmente sotto la soglia basale con un valore pari a 1,5 casi per 1.000 assistiti. Nella scorsa stagione, in questa stessa settimana, il livello di incidenza era pari a 8,5 casi per 1.000 assistiti. L'incidenza è molto sotto la media anche nelle regioni, come la Puglia, che registrano il più alto numero di casi nel paese. Anche a livello europeo, la stagione influenzale non è praticamente iniziata, scrive il sito Flu News Europe. Il merito, spiega Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento di Igiene del Policlinico San Martino di Genova, è di una serie di fattori. Soprattutto abbiamo assistito ad uno spettacolo, è difficile trovare gli aggettivi appropriati, diciamo ad uno spettacolo nel dibattito al Senato che ha riguardato la fiducia al governo. Ora, io credo che se noi volessimo ragionare su quello che abbiamo visto, saremmo obbligati a cadere in depressione, una depressione nera. Sulla base di quello che abbiamo visto si conferma, quello che ho ripetuto parecchie volte, che la riforma più urgente nel nostro paese è quella relativa alla riapertura dei manicomi. Io credo però che noi facciamo un errore di fondo quando assistiamo alle vicende politiche nazionali. L'errore di fondo è immaginare di confrontare l'Italia con gli altri paesi avanzati. La Germania, la Francia, il Giappone, la Sud Corea. È chiaro che se guardiamo le vicende italiane, confrontandole con quelle di altri paesi, cadiamo in depressione. Il nostro termine di paragone non sono le grandi democrazie, ma sono le attività dei circhi equestri. Il nostro termine di paragone è il circo di Usolei. Se cominciamo a guardare le nostre vicende in questi termini, vedrete che ci rassereniamo. Abbiamo visto al Senato saltimbanchi, acrobati, due giovanotti che erano andati a farsi un giro per Roma, sono tornati a votare dopo che erano scaduti i termini. La Presidente del Senato, Casellati, ha dichiarato chiuse le votazioni, poi le ha dichiarate socchiuse, poi le ha dichiarate riaperte. È uno spettacolo meraviglioso. Meraviglioso. Se noi ci confrontiamo con il circo di Usolei, siamo largamente vincitori. Questa è la verità. Altri due morti per Covid in Irpini e il totale dei decessi della seconda ondata sale a 167. Al Moscati ha perso la vita un 75enne di San Martino, Valle Caudina. Al Frangipane di Ariano invece ieri sera è ispirato un 82enne di Frigento che era ricoverato in terapia intensiva. In compenso il numero dei ricoveri continua ad abbassarsi. Tra i due nosocomi sono 30 in tutto i pazienti Covid che hanno necessità ancora delle cure ospedaliere. Torna a scendere sotto il 5% il tasso di positività in Irpini all'ultimo bollettino diffuso dall'AS di Avellino ci restituisce 52 nuovi casi su 1.081 tamponi effettuati. Ciò nonostante preoccupano i picchi registrati in alcune realtà. Tra queste sicuramente San Martino, Valle Caudina dove registriamo altri 10 contagi molti dei quali sono contatti del focolaio che si è sviluppato intorno alla parrocchia. Per questo motivo il sindaco Pisano ha annunciato che prolungherà fino a martedì l'ordinanza di chiusura delle scuole in attesa dello screening di massa programmato domenica a Cervinara. 8 positivi a Nusco, 6 a Forino, la lista dei contagi accertati annoverà anche Montoro, 4, Montefalcione e Baiano rispettivamente 3, due case da Reano Irpino, Caposere, Cervinara, Chiusano, San Domenico e Monteforte, uno per parte infine ad Avellino, Carabrito, Mercogliano, Montefusco, Montemiletto e Vallata. La Galleria Vittoria, l'arco borbonico, la passeggiata del lungomare Parteno per la pavimentazione di via Marina e Corso Vittorio Emanuele, cantieri, traffico, pochi vigili strada. Sono tante le criticità di una città che attende risposte, progetti concreti e ristrutturazioni importanti. Fermi i lavori della Galleria Vittoria dopo la richiesta di dissequestro, il tunnel sarà chiuso sicuramente anche la prossima estate. Le infiltrazioni che ne hanno minato la stabilità sono troppo gravi per permettere alla Procura di riautorizzarne l'apertura in primavera. Serio il pericolo di crollo, il tunnel secondo i periti va ristrutturato del tutto e non bastano i nuovi pannelli per garantirne la staticità. Lavori fermi anche al molo Beverello, non si è ancora capito quali saranno i prossimi piani di ristrutturazione dello scalo marittimo partenopeo? Ciò che è certo è che non sarà pronto per la prossima estate, quando si potrà, si spera, riprendere con il turismo e il traffico crociristico. Ma ha iniziato invece i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione della passeggiata di via partenope, devastata dalle onde del mare e della mareggiata, che portò alla distruzione anche di ristoranti e gazebo. La sovrintendenza non si è ancora pronunciata, lasciando il stato di abbandono l'intera area, così come l'arco borbonnico, tristemente crollato in mare. Unici cantieri in funzione in città, quelli della nuova metropolitana. Cambia il look Piazza Quattro Palazzi, ma anche Piazza della Repubblica, e dove si lavora lacrimente per terminare i lavori di realizzazione della stazione in stile Liberty. Se il trasporto pubblico viene considerato tra i principali veicoli del contagio da Covid-19, è la bici il modo più sicuro per recarsi a scuola con la garanzia del distanziamento fisico. Ed è proprio per promuovere l'utilizzo di ruote e pedali che Città della Scienza ha ideato, nell'ambito dell'iniziativa Tre Giorni per la Scuola, un concorso che ha messo in palio delle rastrelliere per consentire la sosta delle bici nei plessi scolastici in sicurezza. Le comunità scolastiche più numerose che hanno partecipato sono state premiate con l'omaggio di rastrelliere, tra le scuole napoletane, vincitrici, gli istituti Francesco Mastriani di Poggio Reale, Vittorino da Feltre di Barra e Fiorelli del quartiere Chiaia, dove nel giorno in cui sono rientrate in classe le quarte e le quinte elementari grazie a una sentenza del TAR sono arrivate le prime rastrelliere. A inaugurarle la preside Anna Maria Guardiano, il presidente del tavolo ciclabilità del comune di Napoli, Luca Simeone, e gli assessori ai trasporti e al patrimonio Gaudini e Clemente. I genitori e gli alunni erano desiderosi di sperimentare questo mezzo di trasporto che comunque sembra oltretutto una valida alternativa, visto il momento storico che stiamo vivendo, ad altri mezzi di trasporto, certo sempre tempo permettendo. Ed è una cosa che già da anni veniva chiesta in questa scuola di poter accedere con le biciclette, perché trovandosi nel centro storico loro hanno difficoltà, chiaramente, anche i docenti a venire con le auto. Noi abbiamo fatto questo evento nell'ambito della tre giorni per la scuola e hanno partecipato oltre 50 scuole. Abbiamo messo in palio le prime quattro rastrelliere e poi queste rastrelliere saranno implementate nel corso delle prossime settimane. Un primo passo importante per sensibilizzare all'utilizzo della bici, incentivare la mobilità sostenibile e soprattutto dare un segnale anche educativo. Noi abbiamo il dovere di bloccare il contagio da coronavirus e dalla priorità sul tutto, però abbiamo anche il dovere come classe istituzionale, politica, amministrativa, non soltanto di Napoli ma del Paese, di non bloccare cose essenziali per le ragazze e ragazzi nell'età evolutiva. Rischia di slittare, ma lo potrebbe decidere solo il nuovo vescovo, l'avvicendamento nella cattedrale di Napoli del Cardinale Crescenzio Sepe e Monsignor Domenico Battaglia in programma il 2 febbraio prossimo. Sepe oggi è stato costretto a rinviare la celebrazione eucaristica di ringraziamento a conclusione del suo ministero pastorale alla guida dell'Arcidiocesi di Napoli, fissata per domenica 24 gennaio a causa della permanente positività al Covid-19. Il Cardinale, che il 13 gennaio ha scoperto di aver contratto il virus durante un controllo di routine, è asintomatico di buona salute. È in auto-isolamento nel suo appartamento a Donna Regina ed ha annullato tutte le cerimonie. Dopo 14 anni dunque ci sarà il passaggio di testimone, proprio l'organizzazione di questa cerimonia, che rappresenta proprio la consegna della precedente arcivescova al nuovo del pastorale, che attualmente è in bilico. Di fatto Monsignor Battaglia è già il nuovo pastore della Chiesa di Napoli, grazie alla nomina del Papa Francesco, che lo ha trasferito dalla Diocesi di Cerreto Sanità comunicata dallo stesso Sepe. La cerimonia di insediamento prevede la presenza di 200 persone in cattedrale e di un centinaio in Santa Restituta per rispettare le prescrizioni anti-Covid. Ci sarà la lettura della bolla papale di nomina e successivamente la consegna del pastorale al nuovo arcivescovo, che successivamente salirà sulla cattedrale e diverrà ufficialmente arcivescovo di Napoli. A scuola sì, ma in edifici sicuri e con mezzi di trasporto che diano serenità. È in estrema sintesi la richiesta lanciata oggi da una delegazione di studenti in rappresentanza di 30 scuole dell'intero territorio provinciale di Salerno. Un presidio che si è svolto questa mattina presso Palazzo Sant'Agostino in contemporanea ad un incontro tra una delegazione degli alunni e di vertici dell'amministrazione provinciale di Salerno per chiarire quella che è anche la volontà dei diretti protagonisti del mondo della scuola. Gli studenti del coordinamento Scuole Sicure hanno presentato un ventaglio di proposte che diventa urgente e indifferibile alla luce della recente decisione di riportarli in aula dal primo febbraio. Al termine dell'incontro con i rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Salerno è stato sancito di avere con gli studenti un confronto periodico una volta al mese per fare il punto della situazione. Gli studenti si sono impegnati a fornire alla scuola dati sui collegamenti e sugli alunni pendolari per aiutare al meglio la riorganizzazione del trasporto scolastico che ormai chiaro diventa fondamentale nella gestione anche dell'emergenza Covid. Nessuna notizia precisa invece in merito agli interventi di manutenzione che dovranno essere effettuati nelle scuole. I pochi fondi a disposizione non consentiranno di effettuarli contemporaneamente in tutti gli edifici scolastici. Sì, noi chiediamo appunto non tanto un ritorno immediato a prescindere noi vogliamo che ci vengano garantite le condizioni necessarie per ritornare in presenza perché la DAD si è dimostrata dopo mesi e mesi non un mezzo più efficace ormai. Quindi noi chiediamo un rientro a scuola con tutti i presupposti che ce lo consentono quindi implemento dei trasporti, implemento di quelli che sono i piani edilizzi delle diverse scuole che spesso non hanno potuto riaprire molte scuole non hanno potuto riaprire perché appunto non erano capaci di accogliere tutti quegli studenti con i dovuti distanziamenti a inizio anno per esempio. Ristorazione e abbigliamento ormai è un dato drammaticamente noto sono tra i settori del commercio più colpiti dalla crisi economica innescata dal Covid una crisi che dura ormai da un anno proprio oggi ricade l'anniversario dell'avvio del primo lockdown, quello di One in tutta Italia per le centinaia di migliaia di titolari di negozi quelli odierni sono tempi ad usare un eufemismo complicati per molti tra loro il saldo tra le spese fisse utenze, fitti e tasse nonostante tutto da sostenere e i magri incassi è negativo fino a diventare non più sostenibile già numerose le attività che a cavallo tra il 2020 e il 2021 hanno abbassato definitivamente la saracinesca per chi rimane e tiene duro ogni giorno in più di apertura diventa una specie di impresa di qui al di là degli sporadici e spesso insufficienti ristori economici sottolinea un ristoratore di Campobasso continuiamo a essere immersi in un clima cupo e senza spiragli all'orizzonte una moria, questo il crudo termine utilizzato stare nella propria attività e non fare niente stare lì veramente per passare la gialla e per non stare a casa è diventato umiliante, frustrante molte volte non c'è nemmeno la forza e la voglia di venire ad aprire c'è confusione in loro e naturalmente la trasmettono a noi noi siamo in zona gialla e poi dice che in ospedale cercate di non entrare in un ospedale il cliente come fa a spendere i soldi chi se la compra fa la maglietta per tenersela in casa 75% della gente è in smart working quindi a pranzo facciamo poco e niente i miei colleghi che lavorano solo il sabato e la domenica quindi se io bene o male in settimana sommando gli riesco a fare 40 coperti in tutta la settimana loro i 40 coperti li facevano la domenica a pranzo e gliele hai tolto la domenica a pranzo noi siamo proprio messi in ginocchio i ristori sbagliati in base a un mese che non è aprile, era aprile quando mi hai fatto chiudere l'aprile mi dai aprile mi fai chiudere novembre, mi dai novembre mi fai chiudere dicembre e mi dai dicembre cioè non voglio né di più né di meno da quello che mi spetta però lasciando stare i ristori, gli appoggi, gli aiuti è che proprio si vede una sorta di muria e a proposito di aiuti economici agli esercenti sempre a Campobasso il titolare di un negozio di abbigliamento commenta quelli varati dalla regione sono comunque delle misure gradite e tra l'altro si rivolgono a tutte le attività che non hanno ricevuto precedentemente nessun tipo di agevolazione e di ristoro nella prima tranche di bandi e questo è molto importante perché evita un elemento distorsivo che delle attività avrebbero potuto prendere un doppio indennizzo e altre attività invece potevano essere escluse del tutto però logicamente questo non è la panacea di tutti i mali perché ci vorrebbero tanti interventi a supporto delle varie imprese comunque noi ci stiamo muovendo affinché anche le istituzioni possano sentire la nostra voce grazie a tutti 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 Castello di Cisterna, nell'ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di Napoli. Armi e munizioni, ma anche droga, nascoste in una cassaforte occultata in uno scantinato nel rione 219 di Brusciano. Sei pistole semiautomatiche di vario calibre, una pistola mitragliatrice, una carabina con silenziatore e 350 proiettili. Con le armi anche quasi 700 grammi di cocaina e materiale vario per il confezionamento. Le armi sequestrate a carico di ignoti saranno sottoposte ora ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate o meno in fatti di sangue o intimidazioni. Durante il servizio sono state denunciate 5 persone, una per evasione, tre per ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. I controlli continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni con la rimozione di alcune grate che, secondo le ricostruzioni, hanno permesso di spacciare al dettaglio la droga senza che acquirenti e pusher potessero vedersi. Un decreto di sequestro preventivo di beni del valore di quasi 200 mila euro è stato eseguito su disposizione del Tribunale di Napoli dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine coordinata dalla seconda sezione della Procura della Repubblica Partenopea. Il provvedimento cautelare patrimoniale riguarda due società che gestiscono un albergo di l'acqua a meno sull'isola d'Ischia. In particolare, i finanzieri della locale stazione hanno messo in evidenza presunte irregolarità commesse da parte della struttura ricettiva, ovvero il mancato versamento dell'imposta di soggiorno per gli anni 2018 e 2019 che invece riscuoteva dai clienti la conseguente mancata presentazione della dichiarazione della tassa di soggiorno. L'attività investigativa e l'analisi della documentazione contabile acquisita ha consentito alle fiamme gialle di quantificare in 187.112 euro l'importo esatto spettante alle casse comunali nelle due annualità di riferimento. Il tema del mancato versamento della tassa di soggiorno da parte delle strutture alberghiere in tutta la Regione Campania e in particolare nelle aree turisticamente più rilevanti al centro da anni di un'attività investigativa che ha spesso evidenziato mancati pagamenti che hanno provocato azioni a tutela da parte della magistratura attraverso le forze dell'ordine. Amici Trevi Meteo, bentornati a questa settimana. assaggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che vedrà ancora molta variabilità sull'Italia con questa zona di bassa pressione che pian piano andrà a coinvolgere anche il centro-sud con precipitazioni un po' più diffuse mentre al nord è attesa un'attenuazione delle piogge. Controlliamo intanto la nuvolosità prevista sull'Italia per il momento tempo ancora molto variabile da nord a sud, sì qualche timida schiarita si farà avanti nelle regioni settentrionali ma ripeto variabilità resta la parola d'ordine. E come precipitazioni dicevamo che mentre al nord è atteso un parziale miglioramento a cominciare dalle regioni di nord-ovest le piogge vanno a interessare ora anche il centro-sud soprattutto il versante tirrenico. Quindi in definitiva ci attende un sabato comunque molto variabile e instabile in gran parte d'Italia. Le zone migliori sono le regioni di nord-ovest dove in giornata torneranno delle belle schiarite e quelle anche del medio adriatico anche lì con delle belle aperture. Nel resto del paese ancora molta variabilità, le piogge un po' più intense sul versante tirrenico e poi attenzione 20 forti per l'intero weekend in tutta Italia principalmente dai quadranti occidentali con il rischio anche di mareggiate.